Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un nuovo video, questo video di Roblox, wow, un nuovo gioco che si chiama Roblox, è uno dei giochi più famosi del mondo, facciamo vedere com'è questo, questo è il mio caso, questo ha 25 euro, quindi come funziona, che si deve fare in questo? Si deve fare, tipo qua c'è la tua casa, e poi puoi uscire a fare delle cose, qua ci prende il tasto ESC e poi io leggerlo, vi mostro il mio abito in questa cittadina qua. Oh, come si chiama questa cittadina? Adopt me, mi potrei trovare su Adopt me. Adopt me e io gioco, se c'è qualche fan che a Roblox mi trovo qua, qua c'è il centro, poi sopra fa vedere pure i soldi, si qua, e qua ti vuoi in Pasqua perché c'è l'aggiornamento il centro di Pasqua, ok, che calcio, va bene, bellissimo, vai in giro per la città, ecco bel villaggio, accoglione le uovette di Pasqua, no questo è il centro, ah il centro, bellissimo, bellissimo, e qua possiamo pure affogliare, guardate possiamo pure nuotare, nuotare? altri uova, bravo, tienilo così, io vi faccio mostrare dove divertirvi, dove stai andando adesso sul ponte, no al parco, al parco, bellissimo, chi era quello? eh, è un pet, leggendario, sono tipo... lo devi chiappare? eh, no ah, non ci chiappare non è Pokémon Go qua c'è il tuo zaino, e mettiamo tipo pet, no, mettiamo tipo pet, io ne, uno, questo pet, è vero, c'è scritto pet che non lo voglio farlo schiudere ok eh, no, io lo farlo schiudere e quindi qual'è la... la... lo scopo del gioco? si, lo scopo del gioco di trovare i pet e giocare con i tuoi amici oh, e tu ti chiami Scoiattolo Gatto? si, Scoiattolo Gatto bravissimo qual'è tipo come aprirlo? io lo volevo aprirlo eh, pick up significa prenderlo quello sopra quello sopra si pick up pick up eh, io lo volevo aprirlo tipo schiudere qua, cioè come metterlo nello zaino ok ma io lo voglio mettere qua no, no qua e poi ora clicchiamo qua e poi ora cosa clicchiamo qua c'è prendi lì il bloccio si, quello la significa liberalo e questo? quello a sinistra quindi questo? si to tutto dove apre sempre c'è lo zaino pick up allora quello sopra eh poi ce l'hai nello zaino vedete poi c'è il pet nello zaino si c'è il pet nello zaino qua ci sono due pizze e qua e le pizza le devi mangiare poi? ehm no perchè lei può conservare qua non so la visita del gioco no come lo dice qua è una pietra? faccio tipo parkour ah wow hai fatto pure un parkour eh allora la mia casa così ci metto due ore e mezza a vedere la strana qua speriamo che non affonda il titanic poi un altro fatto divertente che ho la che che vi racconto la tipo che quando l'abbiamo scaricato cioè quindi di di oggi oggi tipo 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 stavamo cercando video giochi simili a minecraft ok va detto roblox ci sono due cose ha suggerito roblox si ok benissimo è un po' difficile eh è un po' difficile ok 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 stiamo facendo e adesso andiamo a casa ok andiamo a casa e poi finiamo il video si ok e tu sai come si fa ad andare a casa eh sì devi cercare la fine del centro ma un'ora e mezza no voglio capire la visuale e eppure mi raccomando se vedete tipo dei acel sull'oblox usciteli li li devi mandare via no perchè vi bandano ora cerchiamo la fine e poi qua qua oh oh si andiamo all'acqua no si andiamo qua stai nuotando mi sono pure saltando eppure eppure vi consiglio sto gioco qua perchè c'è un altro pet qui questo è il centro quindi questa è la zona lì qua avevo sbagliato parte così qua facciamo il giro qua tutto ragazzi ci vediamo un prossimo video salutiamo ciao ciao ci salutiamo al bolo abbiamo fatto vedere come si chiama adotmi 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 in roblox va bene ho segno